La balleria dalle signore, Livio Di Tuglio ha detto che lei di fatto è una figura nuova circondata da vecchie persone della politica. Io sono una figura nuova circondata da tanti cittadini, circondata anche da persone che hanno fatto politica per molti anni, che peraltro è un tema che Livio rivendica anche per se stesso, quindi non credo possa imputare ad altri vecchiaia da questo punto di vista. Sono felice perché sono circondata da tanti amici e da tanti cittadini sabonesi che mi stanno dimostrando molta passione e molta voglia di andare avanti in questo percorso. Di Tuglio nella battuta finale Cristina Battaglia ha detto che lei un po' di tempo fa in un bar disse proprio a Cristina Battaglia in un locale un po' di tempo fa e disse appunto che era un sindaco valido per la città di Sabona. Perché cambiate l'idea e sa cambiate l'idea? Perché le modalità con le quali si è proposta questa candidatura sono modalità che hanno annullato la positività di questa candidatura e hanno trasmesso ai sabonesi l'idea che il PD provinciale volesse imporre un nome a questa città. Di Tuglio, ancora con l'Epper per Fugitore con la battaglia. Che cosa dunque a conclusione di questo faccia faccia la differenza dall'altro candidato? Vabbè, come sempre abbiamo in questo caso alcune idee simili anche perché devo dire nel passato abbiamo sempre collaborato assieme, abbiamo delle differenze. Lei dica una che ha percepito anche stasera. Beh, io credo che bisogna essere molto più concreti in questo momento, in questa città. Questo discorso che ha fatto Cristina di accordi di programma, tutte queste robe importantissime, sono certamente cose da fare ma non sono le priorità di questa città. Le priorità di questa città sono quelle che io ho proposto, forse molto più semplicemente, ma certamente...